Spaccio alla stazione centrale maxi operazione della polizia a 13 arresti grazie anche ad agenti sotto copertura. Ha provato il progetto definitivo per rendere meno pericoloso l'incrocio tra via Manzoni e via Verzoni a Iolo. Bando per gli alloggi popolari, già 85 le domande inoltrate, c'è tempo fino al 23 dicembre ma solo online. Messa in sicurezza per le facciate del Duomo, degradate dal tempo e dagli agenti atmosferici, i lavori di ripristino avviano nel 2021. Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. La cronaca in primo piano, spaccio alla stazione centrale maxi operazione della polizia, 13 arresti e altre 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti pusher. Impiegati e anche agenti sotto copertura per dimostrare lo smercio sistemico di droga da parte degli indagati. 19 misure cautelari di cui 13 in carcere a carico di altrettanti spacciatori africani che sono stati rintracciati e individuati dalle indagini della squadra mobile in collaborazione con lo SCO, il Servizio Centrale Operativo e la Divisione Anticrimine della Polizia di Stato. L'operazione della procura è stata possibile grazie all'utilizzo di agenti sotto copertura che si sono finti acquirenti ed hanno così permesso di ricostruire le singole cessioni di stupefacente. Eroina e marijuana principalmente, lo spaccio avveniva nella zona della stazione centrale, sul retro, nel piazzale della Direttissima, ma anche in prossimità del liceo Copernico. Gli arrestati sono tutti giovani africani sotto i 30 anni, a loro carico è stata contestata la cessione sistematica di droga ed è stato proprio questo il passaggio fondamentale dell'inchiesta della procura che ha coinvolto anche gli apparati centrali della Polizia di Stato, ovvero superare la singola contestazione, il singolo episodio di spaccio che con la norma vigente non consente l'applicazione della misura cautelare in carcere e invece risalire fino alla contestazione del primo coma, del testo contro lo spaccio di stupefacenti che invece permette l'applicazione di misure cautelari. Nel corso delle indagini sono stati oltre 70 i passaggi di droga simulati da parte degli agenti sotto copertura che come detto si sono finti clienti interessati all'acquisto di stupefacente. Sono numerose anche le forze dispiegate per quest'operazione che stamattina ha visto il sorvolo dell'elicottero su diverse zone della città di Prato. Per il momento da Palazzo di Giustizia è tutto, restituisco la linea allo studio. E ancora cronaca i finanziari di Prato durante un controllo all'interno di un pronto moda nel macrolotto gestito da una cittadina di origine cinese hanno trovato oltre 5.500 articoli, per lo più mascherine, pronti per essere immessi sul mercato. Gli oggetti erano tutti contraddistinti dall'utilizzo, ovviamente senza alcuna autorizzazione, dei marchi e dei disegni riconducibili ad importanti brand della moda, nonché a società di calcio. I prodotti illegali sono stati sequestrati, mentre la responsabile, una cinquantenne residente nel riminese, è stata denunciata. E cambiamo argomento, è stato approvato il progetto definitivo di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni e via Verzoni a Iolo, dove in passato si sono verificati incidenti gravi e anche mortali. È stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni sulla strada provinciale 7 di Iolo, spesso teatro di incidenti gravi e anche mortali. I lavori sono finanziati dalla provincia di Prato, con 260.000 euro, mentre il Comune di Prato è l'ente proponente che si è assunto gli oneri di progettazione, affidamento e direzione dei lavori. Le opere sono state divise in due lotti. Nel primo sarà messo in sicurezza l'attraversamento pedonale attraverso l'eliminazione dell'incrocio tra la strada provinciale 7 e via Verzoni, la creazione di corsie d'ingresso e di uscita su via Bigoli, di una bretella che collega via Manzoni con via di Garduna per consentire ai residenti di via Verzoni di raggiungere la provinciale e di un attraversamento pedonale rialzato e illuminato. Il secondo lotto prevede invece la realizzazione di due tratti di marcia a piedi lungo via Bigoli e via Verzoni che si riconnettano con l'attraversamento della strada provinciale realizzato nella prima fase. Il lotto 2 richiede infatti per la sua esecuzione l'acquisizione di alcune aree private che dovranno essere espropriate. Si tratta di un intervento importante per la sicurezza stradale su un incrocio ad alta incidentalità. Per noi era prioritario considerando anche che separa due zone molto abitate e che la strada spesso viene percorsa a velocità eccessiva, riferito l'assessore alla mobilità Flora Leoni. La gara d'appalto sarà bandita tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 e i lavori si svolgeranno nell'arco della primavera del prossimo anno. Una grossa trappola per attirare e catturare animali selvatici è quello che hanno trovato gli agenti della polizia provinciale dopo un blitz nelle colline del comune di Vaiano a Savignano. L'intervento ha portato alla scoperta all'interno di un terreno agricolo coltivato a olivi dove si trovavano alcune baracche per la rimessa degli attrezzi di una trappola in ferro appositamente predisposta con del cibo per attirare e catturare fauna selvatica. Gli accertamenti hanno portato all'identificazione dei responsabili. Si tratta di due persone risultate poi non essere cacciatori che sono state denunciate per caccia in periodo di divieto generale e con i mezzi vietati, entrambe sanzioni penali. Sono già 85 di cui 39 inoltrate online le domande presentate per il bando Case Popolari 2020. Il bando pubblicato lo scorso 30 settembre è il primo emanato dal comune di Prato e che tiene conto della nuova normativa approvata dalla Regione Toscana in materia di edilizia residenziale pubblica. Sentiamo. È stato pubblicato il bando per la formazione della graduatoria di accesso alle case popolari di tutti i comuni della provincia di Prato. Rispetto all'ultimo avviso che risale a 5 anni fa sono stati modificati alcuni dei criteri per l'accesso al bando. Tra questi figurano un'Ise che non supera i 16.500 euro la residenza in Toscana da almeno 5 anni anche se non continuativi, la necessità di non avere subito condanne passate in giudicato per una pena superiore a 5 anni. Saranno previsti aumenti di punteggio per le famiglie con portatori di handicap per chi è già nella graduatoria comunale o per chi risiede in provincia da almeno 10 anni. Le domande potranno essere presentate entro il 23 dicembre online oppure per chi non riuscisse a effettuare la procedura telematica avvalendosi dei facilitatori messi a disposizione da tutti i comuni. La volta scorsa ci furono 2000 domande e penso che più o meno purtroppo la fame di casa in città non si è assolutamente affievolita, anzi tutt'altro e quindi noi pensiamo che ci sarà sicuramente, andremo più o meno su una cifra anche superiore rispetto a quella di 5 anni fa. Quello della casa resta un problema vivo a Prato che il comune sta cercando di fronteggiare aumentando la disponibilità di alloggi popolari. L'edilizia pubblica Pratese ha programmato la consegna di circa 200 alloggi da qui al 2022. Sono interventi che sono già programmati e finanziati e si suddividono in nuove costruzioni, recuperi, acquisto perché negli ultimi anni l'edilizia pubblica Pratese ha messo in campo anche questa nuova misura dell'acquisto da libero mercato e alloggi di risulta che sono alloggi che vengono restituiti al patrimonio pubblico dagli assegnatari che li lasciano per vari motivi che possono essere l'ola delle cadenze, lo sfratto oppure anche il rilascio spontaneo. Alia informa che a partire da sabato 10 ottobre sarà nuovamente attivo il tradizionale servizio stagionale di ritiro domiciliare degli indumenti usati nel comune di Prato. In fase di cambio di stagione, infatti, come ogni anno, saranno effettuati due passaggi domiciliari porta a porta del personale addetto in tutte le aree per garantire un servizio capillare residenti in tutto il territorio. Questa raccolta permetterà a tutti coloro che hanno sacchi con indumenti di smaltirli correttamente dal momento che i rifiuti non devono essere lasciati fuori dai cassonetti. Nei giorni precedenti alle date programmate verranno distribuiti dei sacchetti a tutte le famiglie con indicato il giorno di ritiro. È stato transennato il portone principale della Cattedrale di Santo Stefano in attesa degli interventi di messa in sicurezza delle facciate. L'ingresso del Duomo è quindi consentito soltanto dalla porta laterale. Nessuna variazione per le celebrazioni. Scopriamone di più. È tempo di interventi di riqualificazione per la facciata e le superfici esterne del Duomo di Prato, in alcune parti usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici. Il gioiello architettonico della città, da sempre simbolo dell'incontro tra i valori civili e religiosi, è stato nei mesi scorsi al centro di un attento studio e monitoraggio per verificare le criticità strutturali della cattedrale. Prima con l'ausilio dei droni messi in campo dall'Università di Firenze, poi con il coinvolgimento di piattaforme e tecnici specializzati, è stato possibile mappare le singole pietre delle facciate e realizzare uno studio approfondito sull'opera architettonica. Era un'opera che si è resa necessaria perché era da tanti anni che non veniva fatta, penso dagli anni Ottanta, dalla metà degli anni Ottanta. Oggi a seguito di questo monitoraggio abbiamo riscontrato delle criticità, criticità che non possono essere risolte con un intervento immediato. Le parti che a noi destano maggiore preoccupazione, ed ecco il motivo per il quale è stata chiusa la porta principale per l'accesso in cattedrale, sono quelle che sovrastano proprio l'accesso perché ci sono delle parti che sorreggono delle lastre, delle parti sporgenti degli aggetti che presentano elementi, fratture ed elementi di criticità che ci hanno suggerito di adottare questa misura precauzionale in attesa di poter poi fare gli interventi risolutivi per risolvere il problema. Al momento l'accesso è quindi consentito solamente dalla porta laterale lo svolgimento delle celebrazioni eucaristiche, così come l'apertura della Chiesa per la preghiera e le visite agli affreschi di Filippo Lippi, non saranno sospese né subiranno variazioni di orario. L'intervento è stato commissionato dall'Opera del Duomo e verrà realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, dopo la messa in sicurezza temporanea, la speranza di poter procedere con gli interventi definitivi a stretto giro, che potrebbero partire nella primavera del prossimo anno. Speriamo di trovare un qualche ente o anche di coinvolgere maggiormente la cittadinanza, perché è un monumento bellissimo, è il monumento che ci rappresenta all'esterno e quindi è giusto che, o perlomeno io ritengo sia giusto, che noi cittadini pratesi ci occupiamo un pochino anche della nostra cattedrale. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona giornata a tutti, iniziamo dalle ultime immagini che ci giungono al satellite, immagini che ci mostrano la perturbazione transitata e inottata sulla nostra penisola e che si dirige verso le regioni meridionali. Andiamo a vedere le precipitazioni registrate questa notte proprio sulla nostra regione, possiamo osservare sulle zone centro-settentrionali, in particolare sul Val d'Arno medio-inferiore, che si sono registrate precipitazioni non trascurabili, valori fino ai 50-60 mm. La previsione per il pomeriggio di oggi vede un cielo in prevalenza poco nuvoloso, con schiarite più ampie sul nord-ovest e addensamenti ancora residui sulla parte più meridionale della regione, c'è anche la possibilità di qualche isolata e breve pioggia. I venti tenderanno a disporsi dal nord-ovest maestrale, i mari saranno ancora molto mossi, le temperature senza variazioni di rilievo, quindi intorno ai 22-23 gradi di valore massimo. Per quanto riguarda infine la giornata di domani, avremo un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con venti deboli, mari che tenderanno ad attenuarsi, ancora mossi sul settore settentrionale ma in attenuazione, temperature in calo anche sensibile, le massime, le minime scusate, mentre le massime tenderanno ad aumentare di 1-2 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui, l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, arrivederci.